Belen Rodriguez. Gravidanza e divorzio. Finalmente l'ha detto. La conduttrice Belen Rodriguez ha deciso di dire finalmente la verità sul momento che sta vivendo tra una presunta gravidanza ed un presunto divorzio. Belen Rodriguez è da sempre al centro dell'attenzione ma soprattutto del gossip con la sua vita sentimentale particolarmente ricca di colpi di scena. L'ultimo in ordine di tempo risale a pochi mesi fa quando ha annunciato il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. I due dopo mesi di separazione e nuove relazioni hanno deciso di riprovarci. Una scelta non esente da critiche ma soprattutto che ogni giorno regala clamorose indiscrezioni. In queste settimane non si è fatto altro che parlare di due presunte novità ossia una nuova gravidanza e l'ennesima crisi della coppia. Due argomenti importanti quindi e su cui la stessa diretta interessata ha deciso di soffermarsi rivelando come in realtà stanno davvero le cose. Belen Rodriguez, le ultime sulla sua vita privata, l'assenza sospetta. Dopo la seconda separazione da Stefano De Martino, la nota conduttrice ha intrecciato una storia con Antonino Spinalbese ed i due hanno avuto anche la piccola Luna Mari. I due poi si sono lasciati e Belen ha scelto di riprovarci proprio con Stefano da cui per questioni burocratiche non ha mai davvero divorato. La conduttrice e l'ex ballerino sono quindi di nuovo una coppia a quanto pare non esente da indiscrezioni. In questi giorni infatti la conduttrice non è stata vista al timone del consueto appuntamento del martedì con le Iene. La sua assenza ha scatenato alcune clamorose ipotesi e tra queste quella di una presunta terza gravidanza e quella di un possibile ennesimo divorzio dal marito. La sua assenza ha scelto di riprovarci proprio con Stefano. Sous-titrage ST' 501 Ma tranquilli che vi deluderò in altri modi. Una risposta piccata e particolarmente ironica quella della conduttrice che ha quindi provato a mettere a tacere le voci di questi giorni. Allo stesso tempo però Belen è convinta che ci saranno nuove notizie che dovrà gestire prima o poi.